portata dentro dalla posizione 5 è andata a stringere per le padroni di casa per ora uno su due per loro il gol di Zanetta prima rimpinguare il proprio bottino ebbè portarsi 5-1 nel primo tempo ti avvenio in quella occasione mentre poi segna la Casey con la Zimmerman anche se inquadrata la Casey ma la devi questa opportunità 2 su 5 ecco Casey che è finita a destra è rientrata dal pozzetto ancora la palla e quindi non consente anche